oggi la delegazione di treviso è in visita una visita molto importante perché seguita da una degustazione e direi che un po continua questa onda lunga della 300 per cento un grande successo anzi mi confermi oltre 2.000 2.500 presenze siamo con vladimiro gobbo delegato ice di treviso e da lui ascoltiamo le ultime novità beh allora qui e oggi abbiamo fatto uno dei nostri tre eventi diciamo tipologia di eventi ovvero il degusta visitando abbiamo il degusta ristorante dove diventiamo partner dei ristoratori e degusta degusta treviso dove sono delle delle degustazioni vere e proprie più didattiche oggi appunto abbiamo avuto il piacere di essere ospitati da bortolomeo un pilastro del conegliano valdo beale nel prosecco è stata una vista estremamente interessante siamo stati condotti dall'orenologo emanuele e giusto per comunicare quanto il vino se degustato in luogo si carica del terroir del territorio quindi lasciando un ricordo indelebile di qualità e di piacevolezza che diciamo è assolutamente inevitabile è auspicabile è un tipo di visita che ci dà molta soddisfazione a noi e anche i soci che partecipano con noi c'è anche domenico il mitico domenico le parco assolutamente una delle colonne diciamo è una delle colonne comportanti domenico com'è andata la degustazione di oggi mi è sembrata molta attenzione da parte di tutti i presenti anche un nutrito gruppo di aspiranti sommelier e sommelier dell'ais sì sicuramente queste visite vengono apprezzate moltissimo dai sommelier soprattutto quelli del gruppo servizi che appunto approfittano di queste giornate per capire tutto dell'azienda del territorio e oggi sono stati davvero fantastici nel proporre questi quattro vini che rappresentano l'azienda e che davvero soddisfano tutto il piacere della degustazione anche perché è stata una bella degustazione chiudiamo con vladimiro increscendo anche come dire motivata no certo ovviamente le degustazioni devono mirare a far capire sia lo stile aziendale ma anche il territorio abbiamo iniziato con un dosaggio praticamente zero che è il motus vite è il vino che ha preso quest'anno il riconoscimento maggiore della nostra guida sia regionale e nazionale esatto qui nel riserva del fondatore una produzione limitata per ristoratori è una visione che aveva avuto Bortolo Miol ancora circa una decina anni fa ovvero uno charmat lungo che è quel punto di unione tra uno charmat e un metodo classico da dei scrittori originali particolari di grandissima qualità e piacevolezza è il loro cavallo di battaglia appunto che ha preso il massimo riconoscimento abbiamo fatto poi un percorso degustando il loro vino biologico just nature consapevoli la Bortolo Miol che il mercato va verso questa tipologia di prodotto e quindi abbiamo poi finito con il banda rossa extra dry e il cartizze quindi a completare sia un percorso di residuo zuccherino diciamo così di dosaggio ma anche di tipologie di terroire e di interpretazioni bene che altro dire alla prossima occasione lanciamo già un appuntamento ma guardi mi prendo un po' in contropiedi li stiamo programmando se avremo anche le lezioni sicuramente io ti aspetto l'11 di aprile l'11 di aprile abbiamo il campione nazionale Roberto Anesi però appunto un degusto a treviso quindi al maggior consiglio dove degusteremo l'altro pinot nero ovvero i pinot nero delle altre parti del mondo che non sia appunto la Francia vi aspetto le prenotazioni stanno andando già in maniera importante abbiamo ancora pochi posti vi aspetto a tutti i soci ricordiamo il sito iceveneto.it sicuramente alla famiglia Bortolomeo i pionieri e custodi della tradizione dove il proseguo assurge protagonista del millennio grazie a tutti Grazie a tutti